L'Italia ha finito con un tie-break, direi abbastanza allenante per questi ragazzi. È stata una partita molto intensa, una partita difficile, perché abbiamo trovato un avversario che ha fatto delle buone cose, c'è stato qualcosa che noi potevamo fare meglio, è evidente, però loro dal servizio alla ricostruzione, hanno giocato bene, hanno fatto una buonissima partita e quindi noi ci siamo dovuti aggrappare tutte le nostre energie. Oggi era una partita che non aveva un valore per la classifica, però sono contento perché dal punto di vista caratteriale, dal punto di vista anche dei giocatori che sono entrati e hanno dato una mano, era quello il valore che volevamo dare. Certo, non sudare con il risultato, speravamo diciamo di chiuderla un pochino prima, ma devo dire che il merito dell'avversario ci ha portato al quinto set. Però comunque è importante agganciare la vittoria, non era scontato dopo soprattutto quel quarto set perso male. No, no, infatti è quello che è importante. Dicevo, il valore è stato proprio quello che caratterialmente l'insieme della squadra, perché poi ci sono stati dei cambi, quindi non è che è rimasto sempre il solito sestetto, l'insieme dei giocatori ha prodotto un'ottima reazione che è quello che in questa fase dobbiamo accumulare quante più esperienze ed esperienze che ci possono lasciare qualcosa, perché poi insomma da Bari sono tutte partite dentro fuori, quindi è lì quello che hai messo, che hai costruito, quello devi usare. Per il futuro, per queste partite così delicate, il livello di ricezione è una tua preoccupazione o no? No, guarda, noi onestamente, va bene, poi chiaro mi devo riguardare la partita, devo riguardare le situazioni per essere più sicuro di quello che sto dicendo, ma ci sono stati tanti meriti della battuta tedesca, loro quando battono così sono ignosissimi, sono difficili, oggi c'erano delle battute molto forti, tra l'altro con degli effetti difficili da controllare, con variazioni fatte benissimo, molto corte che scendevano, quindi non sono preoccupato, perché so che il livello dei miei giocatori e ci siamo preparati, diciamo, ci siamo allenati su questo, oggi era complicato, era complicato, però alla fine abbiamo tenuto, certo loro poi leggermente sono calati perché non è che potevano continuare a battere con quell'intensità e quella velocità, quindi però noi abbiamo tenuto, questa è una cosa importante.